Ciao amici del verde mondo, oggi siamo al progetto dal uovo alla gallina e è successa una novità cioè abbiamo una chioccia che ormai è cominciato a deporre le uova e che quindi non baderà più ai suoi pulcini quindi questo significa che adesso questi pulcini li andremo ad inserire insieme ad i pulcini nati già precedentemente nell'incubatrice. Adesso separeremo la chioccia dai suoi pulcini perché la natura ha deciso così quindi questi pulcini andranno a rimpolpare quello che è già il nostro progetto partito con l'incubatrice e aggiungeremo degli animali nati la chioccia quindi seguiteci e ci vediamo presto all'appuntamento numero 7. Grazie